eccoci qua buongiorno approfittiamo dal momento favorevole the day after mercoledì 21 agosto quota inferiore 12003 e l'olio parte due bei porcinotti un po un po sfiorone ma va bene questo è della mamma uno due tre bello 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 piaciocotto occo cani d'ontano 4 5 che bello fantastico o che culo c'è stamattina l'olio anche ledo si è sbloccato dai bello fresco dai buttano buttano ancora tutto bello sotto bello anche questo mettiamo qua e adesso andiamo a filmare il godimento assoluto il godimento un pinofilus un pinicola spettacolare che bello che bello bella storia bella storia mi chiamala giaci dani ho trovato si uno qua guardalo lì che bello occo zio è attaccato no non so come fare adesso vediamo no e dai adesso piano piano scaviamo dentro sotto dai vediamo quello che ha trovato la nonna adesso guarda qua ma che bestione bellissimo traetti fantastici adesso pulizia dai lumache lumache a tutt'andare guarda qua l'hanno tritato ma era anche bello andata così attenzione attenzione e non si sposta la pianta no è duro pianta non si tocca che l'ha fatto crescere pensa deriaga non sarà bellissimo ma burco non sarà bellissimo un po' fiorone hai chieso la racchetta va è un fiorone già ci era qua che ti aspettava si va che bello sano ti ho che bello purco hai visto lori qui nei mirtilli eh si va che bello che culo va che sano graffito è mio è ancorato va un giro bellissimo fischia aveva il colore bravo dagli un bacio dai dai un bacio ma ecco prima cotto bello lori bellissimo l'altro qua sotto la radice e fagli un po' di lavoro qua bello poi ogni tanto trovi questo vuol dire che sono arrivati prima di te però un buon segno vuol dire che qualcuno ha imparato a pulirli nel bosco va bene vediamo due attaccati insieme si ma ciccio va la nonna qui on the road sul sentiero che culo nella terriccia qua bella lì appoggiato ecco zio ma che sanita è la luma che c'è sempre pensavo quasi anche meglio la mente la mente non è no preghina o socra p carino dai un po' maturo ma è bello il suo fratellino qua bello sano luma cotto ciccio che culo bravissimo bello bel gambo fischia bello sviluppato bene perfetto uno finalmente uno finalmente ma non so se ti lamenti bello bello qui edulis nei sassi nello sporco pino zio pino bellissimo misto faggio misto faggio misto faggio bravo lori uno alla qua freschissimo il suo fratello che bello fischia bellissimo e la madonna c'è la pipa ciccio bello bello e niente lori io non lo vedevo no c'è problema cioè c'è un sasso sotto qui questo è un sasso e quindi non riesco no non riesco spacco va bene operazione estrazione questa qua una bella curiosità l'amanite l'amanite e il porcino ecco l'amanite ma era lì e il porcino siccome qua c'è andato su qualche pezzo di amanite cosa dici che non c'è da fidarsi tanto non lo mangiavo noi io lo regali a qualcuno hai già ci raccogli bellissimo bellissimo sì piccolino ma aveva intenzione di scendere avevo bello bellissimo bello fresco ragazzi ciccio cosa sgranocchi è uno degli ultimi è l'ultimo no dai magari se riesco a estrarlo da qua eccolo qua un altro bel boletus edulis orobico doc è Grazie.